Vuoi delle maglie da calcio di questa stagione a poco prezzo? C'è chi calcio? Usa il codice promozionale GS per ottenere il 15% di sconto su ogni acquisto. Link e altre informazioni in descrizione. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Lazio Genoa. Per tornarci su un'ultima volta prima della preparazione alla gara contro la Fiorentina di sabato sera. Voglio subito togliermi dalle palle un argomento che è quello su Correa che inizia a diventare anche stucchevole col passare del tempo però ci sono alcuni utenti, e parlo di 3-4 utenti sempre i soliti, sempre gli stessi che nonostante tutto continuano a sbomballare le palle su questo giocatore con questo giocatore, scusate, non su, con questo giocatore Allora, dato che io non riesco a spiegarmi in quella che è la mia lingua madre, quindi l'italiano cerchiamo di parlare un'altra lingua, quella dei numeri, ok? Questa immagine rappresenta, che vi metterò qui, rappresenta le statistiche di Correa che riguardano i minuti giocati e anche i gol e gli assist, quindi la partecipazione ai gol delle prime 28 partite di campionato, ok? Correa di queste 28 partite ne ha saltate alcune per infortunio oppure per scelta tecnica però ne ha giocate circa 20, 20 partite In queste 20 partite troviamo 3 gol e 2 assist che sono gli stessi numeri di Darmian dell'Inter se non inferiori, e sono sicuramente inferiori ai numeri di Hakimi, sempre dell'Inter con la sola differenza che Hakimi e Darmian sono due esterni di centrocampo mentre Correa gioca in attacco, anche se non è un vero e proprio attaccante, non è un realizzatore ed è uno dei due attaccanti titolari 3 gol e 2 assist nelle prime 28 partite di campionato quindi io penso sinceramente che sarebbe molto disonesto intellettualmente non ammettere che la stagione di Correa, il campionato, scusate di Correa perché poi in Champions si è sempre impegnato il campionato di Correa prima della partita in casa contro il Benevento è stato sotto la mediocrità non è stato mediocre, è stato sotto la mediocrità perché sono numeri da difensore centrale sono numeri da terzino da terzino, cioè Teo Hernandez ha fatto più gol quindi continuare a commentare sotto i miei video sotto i miei video limitandosi, limitandosi a parlare delle ultime 4 partite lo considero come un insulto alla mia intelligenza all'intelligenza di tutti quelli che leggono i commenti e anche alla vostra stessa intelligenza ok? perché ripeto è molto disonesto intellettualmente limitare la stagione di Correa alle ultime 4 partite in cui sta facendo bene di Correa si è criticato il rendimento non soltanto la fase realizzativa perché i gol e gli assist vanno a braccetto con quello che è il rendimento se si migliora il rendimento allora si migliorano anche i numeri per quanto riguarda la partecipazione ai gol ed è quello che è successo nelle ultime 4-5 partite di Correa si criticava il rendimento il rendimento di Correa nelle ultime 4 partite è migliorato e noi laziali siamo contenti finisce qui finisce qui le prime 20 partite di Correa in campionato 3 gol e 2 assist le ultime 5 partite 5 gol e 2 assist soltanto questo soltanto questo va a confermare che in effetti ci fosse un problema Correa perché da quando Correa ha ricominciato a segnare ha ricominciato ad impegnarsi ha ricominciato a giocare da Correa la Lazio segna 3-4 gol a partita ed è un dato di fatto chiuso l'argomento Correa spero una volta per tutte altrimenti ragazzi io veramente non so che lingua parlare non so che lingua parlare la partita di Contagione è stata una grande partita per 75 minuti purtroppo questa squadra dimostra un'altra volta di essere molto a parte di essere una squadra di stronzi ma di essere una squadra molto fragile mentalmente che quando spegne la luce quando cala di concentrazione e di attenzione può prendere una marea di gol è successo l'altro ieri contro il Genoa che in un minuto sono arrivati due gol è successo contro il Benevento e questo mi ricorda un po' Salisburgo mi ricorda un po' Salisburgo mi ricorda un po' la partita contro l'Inter e parliamo di tre anni fa e in tre anni sembra che le cose non siano cambiate l'unica cosa che è cambiata secondo me è la voglia di vincere la voglia di vincere e secondo me c'è molto carattere in quello perché comunque il dato che riguarda le vittorie di misura in campionato è interessante molto interessante la maggior parte delle vittorie in campionato della Lazio sono vittorie di misura sono vittorie per 1-0 come quella di Udine come quella di Verona come quella in casa contro la Sampdoria quella in casa contro il Cagliari oppure sono vittorie per 2-1 come quella contro lo Spezia all'andata e al ritorno quella contro il Bologna all'andata oppure sono vittorie per 4-3 e per 3-2 questo secondo me dimostra che la squadra alla fine riesce ad ottenere i risultati nonostante dei cali di concentrazione momentanei all'interno della partita secondo me sono questi che devono essere risolti è diverso per quanto riguarda i big match perché alla fine sì parliamo di vittorie di misura però poi la Lazio vince a Bergamo 3-1 vince contro la Roma 3-0 batte il Napoli 2-0 batte il Milan 3-0 cioè tutte le vittorie praticamente non di misura sono arrivate contro le big quasi tutte avere davanti una grande squadra secondo me li porta a tenere la concentrazione per più tempo invece quando si ha davanti una squadra inferiore secondo me si tende a perdere la concentrazione e poi a rischiare di farsi rimontare come è successo contro il Benevento e Genoa questo è quello che penso io spero che questa cosa venga risolta anche perché è imperativo vincere contro le prossime due squadre che sono Fiorentina e Parma per rimanere agganciati alla Champions League ditemi che cosa ne pensate se vi è piaciuto se per caso non vi ho fatto noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza Lazio